miei cari amici oggi non tratteremo di ricette ma bensì di un consiglio utilissimo testato personalmente da me la vostra lavatrice emana un cattivo odore bene seguite quanto segue comprate in farmacia oppure in un vivaio di piante o da qualche ottimo centro di ferramenta un chilo di acido citrico tornate a casa prendetene 200 grammi aprite il cestello inserite 200 grammi di acido citrico all'interno del cestello chiudete la lavatrice fatto mettete il lavaggio a 90 gradi qui non c'è dobbiamo mettere allora a 95 gradi mettete il lavaggio qui a 95 gradi ed avviate il lavaggio quando quando la temperatura dell'acqua arriva a 90 gradi io vi consiglio di spegnere mettere in pausa la lavatrice fatela stare una mezz'ora in modo che l'acqua che è bollente non dovete aggiungere i panni naturalmente all'interno della lavatrice questo mi sembra ovvio comunque ve l'ho voluto dire fate stare a riposo quindi l'acqua bollente per una mezz'ora poi riavviate il lavaggio e fate terminare tutto vedete che quando l'acqua scarica noterete che quando scarica l'acqua uscirà anche tutta questa melma maleodorante bene ripetete questa operazione all'inizio due volte al mese quindi una volta ogni 15 giorni poi col tempo andando via la melma dalla caldaia che si era formata all'interno basta anche solo una volta ogni due mesi questo è il mio consiglio gratuito vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ricetta questa volta ciao arrivederci